Prima tappa del Giro d'Abruzzo, da Vasto a Pescara, la vittoria a Piazza Duca di Enrico Zanoncello, team Bardiani al photo finish battuto Maluccelli. La vittoria anche con un po' di Abruzzo, perché il direttore sportivo della Bardiani è di Pescara ed è Alessandro Donati. Con le immagini di Donatello Ricci ci andiamo ad ascoltare i protagonisti. Zanoncello, ti do subito un aneddoto, perché il tuo DS Donati ha detto che non poteva farmi più felice. Sono di Pescara e mi ha regalato questa vittoria. Certo, so che Ale ci teneva molto a vincere qui nella sua terra e la mia prima vittoria da pure è stata con lui e sono stato contento di ripagarlo con una vittoria qui nelle sue terre. La volata, raccontacelo, un photo finish per te penso molto importante. Sì, eravamo abbastanza allungati, all'ultimo sono uscito, mi sentivo bene e siamo arrivati a photo finish. Mi sentivo di aver vinto, però ho detto, eravamo lì, lì, però è andata bene, dai. Non poteva iniziare meglio per Alessandro Donati a Pescara a casa il Giro d'Abruzzo con Zanoncello che ha vinto il photo finish? Ma meglio di così mi ha reso veramente orgoglioso e felice oggi. Innanzitutto perché si arriva qui a Pescara a casa mia praticamente. Poi la vittoria è importante soprattutto per lui e per la squadra in prospettiva al Giro d'Italia, però per me giustamente vale doppio perché sono nato qui in queste strade, fare il direttore sportivo oggi di chi ha vinto è qualcosa di incredibile. Allora, Presidente Marsilio, primo giorno a Pescara del nuovo Giro d'Abruzzo. È un bel giorno, è stata un'altra bella festa, un altro bel evento che permette all'Abruzzo di essere visto in tutta Italia attraverso i grandi network anche nel resto d'Europa e del mondo. Era una bella occasione, mancavano pochi giorni all'organizzazione quando RCS ci ha chiesto di poterlo svolgere, non era facile, abbiamo dato, penso che l'organizzazione insomma sia andata tutta perfettamente e quindi questa è stata anche un'altra bella prova di capacità di organizzazione. Faccio le mie congratulazioni anche alle amministrazioni comunali coinvolte che in poco tempo, alle province, insomma, a chi ha dovuto gestire strade, chiusure, forse dell'ordine, prefetture, in pochi giorni mettere in piedi una macchina organizzativa, ma evidentemente siamo ben abituati. Insomma, ormai sul ciclismo e sul grande ciclismo l'Abruzzo ha preso le misure e quindi siamo in grado in pochi giorni di mettere in campo l'organizzazione che serve.